I preferiti low cost del 2022 Ciao a tutti e bentrovati sul canale Ho tergiversato forse troppo nel fare questo video ma a differenza degli altri anni in cui vi faccio vedere i miei preferiti in assoluto che rimangono comunque sempre quelli degli altri anni quindi vi basterà vedere il video dell'anno scorso per vedere i preferiti in assoluto perché non li ho cambiati non ho cambiato Cipria, non ho cambiato Siero, non ho cambiato Rimmel, non ho cambiato niente potete andare a vedere il video dell'anno scorso ed è assolutamente attuale vi voglio però far vedere tutti i preferiti low cost perché quest'anno, anzi perché l'anno scorso, il 2022, è stato proprio l'anno delle scoperte a basso costo scoperte che mi sono piaciute tantissimo così, random, vado pescando qui davanti a me ho la mia borsettina con tutti i prodotti e ve li faccio vedere uno degli ultimi arrivati è il bagnoschiuma Tesori d'Oriente devo dire che è un'ottima alternativa low cost al bagnoschiuma della Dior dell'Ipnotique Poison, la linea dei bagnoschiuma relativi al profumo che io uso ha proprio il profumo dell'Ipnotique Poison quindi se usate quel profumo come me, che è il mio preferito tra i profumi e non volete spendere una fucilata per accordare il bagnoschiuma che usate ogni giorno alle note aromatiche del vostro profumo potete tranquillamente utilizzare questo e con 3-4 euro avere un boccettone da 500 ml di un bagnoschiuma che lascia la pelle morbida profumata ma soprattutto che vi fa un'aromaterapia sotto la doccia che è di quelle fotoniche meraviglioso, quindi cominciamo l'anno nuovo con un prodotto rosso che porta bene ed è il bagnoschiuma Tesori d'Oriente la fragranza è fiore del dragone io questo lo trovo da acqua e sapone grandi scoperte per i capelli innanzitutto questa combo 1 e 2 inci ottimi e resa meravigliosa per i prodotti pro vitamin della linea viola quella volume and style l'altra non è buona come questa, le altre linee questa è meravigliosa e ha un inci a detta di yucca molto buono io li uso entrambi e mi trovo veramente veramente molto bene come formulazione, non dico come resa ho sbagliato, non come formulazione come resa assomigliano tantissimo ai prodotti Pantene che per quanto male se ne dica sono fantastici sui capelli poiché abbiano di tutto dentro ok, ma sui capelli ad onor del vero la Pantene è fantastica però questi pur non avendo tutte le cose di cui parlano male della Pantene hanno il bene cioè quello che si vede sui capelli e mi trovo molto molto bene costano veramente un'inezia e li trovate alla Lidl un'altra cosa con cui mi trovo bene per i capelli addirittura meglio che con questo è un balsamo che ho scoperto per caso ed è comprato all'Eurospin è della Nier ed è questo balsamo balsamo, cocco e vaniglia a parte tutti i prodotti che vi ho fatto vedere hanno dei buoni profumi ma questo ha un profumo paradisiaco ha un effetto districante pazzesco ne basta una nocciolina piccola infatti questa bottiglietta che ho questa bottiglietta 500 ml che costa pochissimo 2 euro una cosa di questo genere meno di 2 euro mi durerà almeno 3 mesi io quella precedente a questa veramente l'ho usata per moltissimo tempo mi pare di averla comprata a fine estate e l'ho buttata adesso ora ho ricomprato questa questo è veramente un mai più senza perché è uno di quei prodotti che sono facili da reperire come tutti quelli che vi sto facendo vedere ma di cui ne basta veramente pochissimo per avere il massimo dell'effetto consigliatissimo consigliatissima anche la cognac la spugnetta ora la vedete così tutta rattrappita perché è super asciutta ma la cognac è una spugnetta naturale e magica che dopo aver fatto io la uso in maniera tipica perché secondo me ha dei benefici sulla pelle indipendentemente dal fatto che la usiate per struccarvi io dopo che mi strucco e molto spesso la mattina prima dell'acqua di rose roberts che è un mio preferito che trovate l'anno scorso la strizzo sotto l'acqua e me la passo così ha un potere illuminante perché fa un micro scrub quotidiano che ti lascia la pelle luminosa e priva di imperfezioni ora voi mi state vedendo questa cosa qui ma questa cosa qui non è un'imperfezione ho dato una craniata contro lo spigolo oggi pomeriggio e mi è uscita fuori questa cosa ma comunque va bene sono comunque capace di intendere di volere o quantomeno lo sono poco come prima ma questa io l'ho presa alla Lidl in un set e l'ho trovata meravigliosa ma la trovate un po' dappertutto nelle erboristerie nei negozi di profumeria più forniti la spugnetta cognac vedete e guardate quanto è buona passatela sul vostro viso a detersione ultimata e dopo asciugatele il viso e passate il vostro tonico meravigliosa per gli effetti illuminanti quest'anno è stato l'anno è stato l'anno di questo correttore ho usato solo lui Astra Transformist forse ho cominciato ad usarlo l'anno scorso non lo ricordo ma non volevo incorrere nell'errore di non consigliarvelo è uno dei correttori migliori che esistano in mercato sia di alto range che di basso io ho anche quello di Urban Decay ne ho di molto costosi meraviglioso il Naked meraviglioso ma questo molto più elastico molto più coprente non segna assolutamente il contornocchi questo in realtà è un fondotinta che fa anche da correttore foundation and concealer due in uno io però lo uso soltanto come correttore lo metto qui 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 e qui un tocchino e lo sfumo con la spugnetta è un correttore meraviglioso veramente fantastico coprenza durata stabilità non vale le pieghette resta nel posto dove lo mettete io questo l'ho messo stamattina alle 8 e adesso sono le 10 di sera e sto girando un video notturna perché è il momento in cui sono più tranquilla è ancora il trucco regge ma regge anche il rossetto che ho messo oggi pomeriggio alle 14 ora vi dico cosa ho messo perché qui meraviglioso questo correttore Astra Transformist ve l'ho già parlato è una super conferma che porto anche nell'anno nuovo andiamo alla pulizia del viso quest'anno è stato l'anno dei tanti detergenti ma alcuni erano più high cost altri che non vi faccio vedere quello comprato su Yesta è il buonissimo ma costa un po' di più questo invece è meraviglioso e suo fratello verde lo è per altri aspetti lui è il Daily Mild Face Wash dell'Aquarish della Cien comprato alla Lidl su un TikTok di non so chi ho visto che è il dupe del detergente della Yves Rocher non so quanto no della Yves Rocher della La Roche Posay non so quanto questo sia vero perché non ho cercato compatibilità di Inci io so soltanto che questo detergente è una manna dal cielo specialmente se avete la pelle tendente ai brufoletti io non ho più questo problema con l'età i brufoletti sono un lontano ricordo ma Enzo che è in età preadolescenziale sta cominciando a venire fuori qualcosina qui basta che gli lavi il viso con questo dopo due giorni non ha più niente perché ha proprio un potere detergente molto spiccato ma non secca la pelle non screpola non la rovina toglie soltanto le impurità lascia una pelle molto idratata non tira dopo esservi lavati con questi non avrete la sensazione di pelle che tira avete solamente la sensazione di pelle idratata è molto pulita consigliatissimo come consigliato anche se leggermente più aggressivo è lo scrub della stessa linea Daily Exfoliant Face Wash veramente ottimo ottimo se lo trovate prendetelo ha un microgranulo molto molto abrasivo ma da passare soprattutto nelle zone della zona T qui dove ci sono queste impurità qua nel naso qui sulla zona del mento meraviglioso anche questo questa è una combo io questo lo uso tutti i giorni mattina e sera mentre questo lo uso due tre volte a settimana a seconda della mia settimana se sono stata in posti dove c'era particolarmente polvere o se ho sudato molto o se ho usato trucchi particolarmente pesanti tre volte se invece ho avuto una routine normale due volte a settimana sono più che sufficienti e infatti è molto meno consumato e dura una vita ma questo non voglio talmente farne a meno che l'ho già ricomprato e mi trovo meglio anche che di quello all'acqua di Rose Roberts che io ho adorato questo è superiore sempre la Lidl parlo un attimo delle mani vorrei segnalarvi anche gli smalti gli smalti sono ottimi hanno un'ottima formulazione durano parecchio anche il top coat fa reggere lo smalto veramente a lungo quando io parlo di a lungo dico che è uno smalto rosso sta su senza sbeccarsi 4-5 giorni per me questo è già col lavoro che faccio creatività con sempre le mani al lavoro se non tocco cose a base di acetone la sua durata è di 4-5 giorni ed è uno smalto meraviglioso naturalmente io non ho unghie lunghe quindi le unghie corte sono più facili da mantenersi diciamo così ma anche no non lo so sapete però mi dura quindi io ve lo consiglio perché è un ottimo prodotto io ho provato il rosso ho provato il nude e ho provato il trasparente e sono tutti e tre eccellenti un'altra novità di quest'anno è il perfect slim eyeliner waterproof della l'oreal nella colorazione marrone e anche nella colorazione grigia sono degli eyeliner veramente meravigliosi è quello che ho su anche oggi mi ci trovo benissimo stabili durevoli non si sgretolano ma si struccano con molta facilità non devo stare lì a sfregare ore e ore quindi fanno il loro lavoro anche se sudo tutti questi prodotti sono anche prodotti che ho provato con una grande sudorazione a causa delle caldanucce che la natura mi sta riservando e anche sudando non scola non sbava non si sposta è fedele a dove lo mettete dura tantissimo e anche la durata del prodotto è veramente ottima diciamo che è uno stick dura una penna dura quattro mesi abbondanti quindi mi ci trovo molto molto bene adesso passiamo alle cose interessanti ho riscoperto il piacere di non usare più la matita labbra ma di sostituirla con dei pennarelli per le labbra sono quattro pennarelli di tre marche diverse allora questo è della New York Color 16 ore è proprio un marker un pennarello di questo colore poi ho gli introvabili della Kiko perché io ce l'ho da prima che diventassero virali ora questa a cercarlo è come cercare l'erba in un pagliaio io ho il 109 ed è questo colore qua questo nude siccome lui sta finendo dovevo cercare un sostituto e da acqua e sapone ho trovato questi due della Deborah Milano e sono gli acquatint lipstick questi qua hanno una punta che io direi un po' controversa però i colori sono meravigliosi e la texture è la medesima dei due precedenti eccoli qua uno e due perché sono passata al lato scuro dei marker perché quando si cresce la bocca comincia ad essere leggermente segnata io non ho tantissimo questo problema però mi premonisco in più una cosa che succede è che la bocca un po' si assottiglia per forza di cose perché il grasso sottocutaneo si asciuga quello della faccia e quello degli altri posti no sempre mai una gioia e quindi molto spesso mi trovo a fare un leggero overliner quindi andare a oltre la la linea della mia bocca tipo oggi l'ho fatto proprio per farvelo vedere fare un overliner con la matita però è un rischio quando si è un pochettino più grandicelli perché la matita va ad entrare nelle pieghette se ce ne fossero ma anche la pelle è un po' diversa un po' più spessita e poi diciamo che non c'è più anche le labbra ecco da grandi quando si è più grandi scoloriscono non hanno più quel colore bello forte che hanno quando si è più ragazzi di conseguenza si vede questo bordo un po' troppo accentuato invece con l'oro non si vede perché l'oro non hanno nessun tipo di spessore vi parlo naturalmente di overliner minimi non bocche troppo scontornate quelle non mi piacciono assolutamente giusto per dare un attimino di volume senza utilizzare punturine questi quindi non hanno nessun tipo di volume non hanno nessun tipo di ingombolo e di cremosità e si fissano in maniera assolutamente stabile rimangono lì dove li mettete senza senza dare l'effetto asciugatura pazzesca su queste cosa vado a mettere oramai le ho di moltissimi colori l'oro le riscoperte dell'anno ero indecisa se immetterle nel low cost le metto nel low cost perché io le compro quando sono in offerta a oltre 50 9 euro alcune anche a 6 euro alla lidel ogni tanto le trovo l'oro le maybelline super stay matte ink mi pare si chiamino sì l'oro sono le tinte labbra della maybelline qui ho in rappresentanza la numero 65 eccola qui e anche questa una volta asciutta ha una stabilità da paura non se ne va neanche con le bombe atomiche le mie queste tinte me le toglie soltanto l'acqua come prodotto non oleoso perché con i prodotti oleosi magari si tolgono più facilmente ma come prodotto non oleoso io riesco ad eliminarla solamente con l'acqua micellare di Garnier quella rosa e lui questo tipo di rossetto oramai è diventato il mio rossetto di sempre perché perché stabile non sborda non va in giro non va nelle pieghe sapete quali sono le parti che cominciano a smarginare prima sono gli angoli della bocca e se non si ha un rossetto stabile l'angolo della bocca diventa una zona molto molto problematica con l'oro no e con queste combo con questa combo che è la mia combo preferita assolutamente no poi la scoperta del secolo quella che non avrei mai immaginato sempre alla Lidl ho scoperto il gloss della vita quello che non abbandonerò mai ne ho due confezioni si chiama Lip Gloss Brillant Shine della Sien è questo colore rosellino meraviglioso tempestato di micro glitter che danno una perlescenza alle labbra meravigliosa e ravvivano il matt della tinta perché guardate al naturale è così quindi questo colore molto naturale nude che è bellissimo già da solo con questo io molto spesso faccio questa combo ma spessissimo io sovrappongo uno due e tre e da questa luminosità e questo volume perché naturalmente la tinta da questo volume ma non è sticky non è appiccicoso ha una consistenza oleosa è idratantissima sulle labbra è proprio gradevole da portare io non lo sto trovando più da un paio di settimane alla Lidl ne ho comunque una scorta perché ne ho anche un altro ma volevo provare anche altri colori ho soltanto il numero 12 che si chiama sugar plum ed è meraviglioso ravviva ogni colore di rossetto io questo lo metto sul rosso lo metto sul nude lo metto sul rosa sta con tutto ma lo metto anche a labbra l'importante è che le labbra siano contornate è meraviglioso meraviglioso provatelo perché costa un niente ed ha una prestazione super lo sapete io di trucchi me ne intendicchio però una cosa così non l'ho trovata in nessun brand perché quando di solito sono così morbidi poi vanno a scivolare migrano mentre lui sta lì dove lo mettete l'intera giornata è dura la luminosità ve l'ho fatta vedere prima io ce l'avevo su dalle due del pomeriggio non è uno di quelli non ho mangiato però perché l'ho messo dopo pranzo però non eh sì stasera non ho cenato se ve lo state chiedendo sì ce ne ho forse mangerò qualcosina dopo abbiamo avuto da fare ho avuto da fare ho molto parlato e mi vedrete sempre con lo stesso trucco bello fresco è meraviglioso meraviglioso per me quest'anno è stato l'anno del gloss e quindi ho introdotto anche lei quando non voglio un finish con dei microgritter perché ci sta che ogni tanto non lo voglia ho comprato lei sempre della Maybelline questa si chiama Superstay Vinyl Ink questa è Matte Ink ed è matte e questa è Vinyl perché ha il finish il finish vinilico io ho trovato questo colore il 10 si chiama Lippy e il suo colore lo metto sotto l'altro questo qua ma si adatta anche molto bene su questo funge molto bene da top coat vediamo se riesco a farlo vediamo se ecco vedete che è luminoso ed è un bellissimo gloss che sta sulle vostre labbra non dura quanto questo ma sta sulle o meglio mi correggo dura quanto questo però poi dopo 6-7 ore comincia a perdere il lucido e diventa una tinta opaca che comunque non è coprente quanto questa comunque 6 ore di gloss incondizionato anche se mangiate lei ve li dà ed è una un gloss una tinta gloss meravigliosa meravigliosa stupenda quest'anno prodotti per la bocca e poi un arrivo che ho dall'anno scorso ma che ho cominciato a usare quest'anno da quest'anno non so se seguite i trend di make up non si usano più le ciglia dipinte cioè disegnate come si usavano fino a tre anni fa ma si usano i ciglioni spazzolati ora io non ho i ciglioni però mi piace il motivo del pelo che si veda e quindi ho preso a pettinarli all'insù dopo aver dato un minimo di colore questo brown gel di hey eco penso che si chiami così ve lo faccio vedere trovato in una box una mystery box di un paio di anni fa o l'anno scorso è meraviglioso fissa le sopracciglia per tutto il giorno io do un leggero tocco di colore dopo le fisso con queste le sopracciglia sono belle la mattina addirittura do soltanto il colore qua sulle codine e la parte iniziale do soltanto il gel e stanno bellissime è un trucco più leggero più fresco perché la mattina molto spesso oramai non mi trucco più con eyeliner matita sopracciglia metto solamente un accenno di matita sul finire perché proprio qui le ho rade rade una matita in fraccigliare quindi non l'eyeliner molto spesso è questo meraviglioso trucco leggero ma curatissimo questi i pochi ma buoni e soprattutto low cost fatemi sapere cosa conoscete fatemi sapere cosa condividete e se conoscete altri low cost che hanno delle performance meravigliose scrivetelo tra i commenti in modo che gli altri possano prendere spunto mi piace pensare a un anno di qualità ma spendendo poco perché non è detto che per avere un trucco a posto una figura curata bisogna per forza spendere una fucilata fa pure rima diciamo così bene io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo capire con un pollice in su e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video lasciate i commenti fatevi sono curiosissima di quello che condividete o non condividete e sono altrettanto curiosissima di conoscere i vostri low cost preferiti un grande bacio a tutti e ci vediamo la prossima volta ciao ciao